Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos che questa sera torniamo a dedicare all'energia rinnovabile, argomento molto importante su cui puntualmente torna il nostro appuntamento perché crescono i dati relativi alla crescita della produzione di energia mondiale che nel 2035 raggiungerà il 50% della produzione nel mondo. Quindi ne parliamo perché tutti i governi oggi spingono per una migliore distribuzione, una migliore gestione dell'energia elettrica che ovviamente punti ad una migliore indipendenza energetica ma anche alla lotta al riscaldamento del globo. Allora nel corso della puntata parleremo anche di una nuova tecnologia che esiste già ma che dovrà evolvere nel futuro che sono gli smart grids e che sono proprio il sistema più intelligente per poter per esempio meglio bilanciare la domanda è l'offerta dell'energia stessa, problema molto importante da affrontare oppure per esempio per capire come integrarsi, come dividere le isole energetiche su scala nazionale e continentale. Allora, argomento molto complesso dicevo, abbiamo bisogno di capire tantissime cose, lo faremo in compagnia del nostro ospite che voglio ringraziare per essere tornato a trovarci. Siamo in compagnia del professor Giovanni Vincenzo Fracastoro che è professore al Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino ed è coordinatore del corso di studio di ingegneria energetica sempre presso il Politecnico. Buongiorno. Professore, lei sa che abbiamo un minuto e mezzo di scheda introduttiva, ascoltiamola e poi tra un minuto e mezzo qua. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha recentemente pubblicato il suo ultimo rapporto annuale per quanto riguarda il sistema energetico globale IALE dell'energia, il quale prevede che le energie rinnovabili rappresenteranno quasi il 50% della crescita della produzione mondiale di elettricità entro il 2035. La maggior parte di questo aumento avverrà nell'energia eolica e solare, con Cina e Giappone che rappresentano oltre il 60% della capacità massima. Il vento e il solare fotovoltaico giocheranno un ruolo importante nella nuova generazione di energia entro il 2035, con la domanda proveniente dalla Cina che supererà quella dell'Europa e degli Stati Uniti. La quota delle fonti energetiche, compreso l'idroelettrico, le biomasse, l'energia eolica e quella solare nella fornitura dell'energia elettrica mondiale, salirà sopra il 30%. Mentre l'Unione Europea attualmente ha la maggiore quota della capacità totale installata, la relazione dimostra che la Cina raggiungerà la più alta capacità per il 2020. Il World Energy Outlook indica che l'eolico rappresenterà il 7,5% del potere globale entro il 2035. L'AIE ha insistito per la necessità di ridurre i sussidi per i combustibili fossili, che erano 5 volte superiori a quelli per le energie rinnovabili, arrivando a 544 miliardi di dollari. Oggi ad Antropos parleremo anche di Smart Grids, che in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni sono l'insieme di una rete informazione e di una rete di distribuzione elettrica, in modo tale da consentire di gestire la rete elettrica in maniera intelligente, sotto vari aspetti o funzionalità, ovvero in maniera efficiente per la distribuzione di energia elettrica e per un uso più razionale dell'energia, minimizzando al contempo eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica intorno al suo valore nominale. Bene, grazie a Giorgio De Feria per la sua scheda introduttiva. Allora, professore, torniamo, dicevamo a parlare di energie rinnovabili. Io in apertura parlavo di questa crescita del 50% dei consumi di energia, che però forse mi diceva sono europei, quelli di cui stiamo parlando, come cresci. Le fonti rinnovabili copriranno forse il 50%. Forse il 50%. Allora, torniamo a fare una classifica allo stato attuale, soprattutto per capire quali sono quelle che più potranno garantirci un minore inquinamento e anche, diciamo, un contenimento dei costi. Torniamo a fare una classifica. Ok. Allora, se vogliamo vedere le fonti rinnovabili in una prospettiva storica, ci sono da sempre le fonti rinnovabili. Quindi ci sono quelle antiche, come la biomassa, quando abbiamo cominciato a bruciare legna, e quelle semi antiche, come l'idroelettrico, che esiste già da più di 100 anni, il geotermoelettrico, e quelle invece decisamente nuove, come l'eolico e il fotovoltaico. Allora, in questo momento, a livello mondiale, si cita un 20% di copertura da parte di tutte le fonti rinnovabili, ma solo metà di questo è legato alle nuove fonti rinnovabili, cioè l'eolico e il fotovoltaico, che sono quelle che hanno avuto lo sviluppo più recente e più forte. E direi che sono anche quelle che in prospettiva occuperanno il ruolo più importante, perché l'idroelettrico, oramai abbiamo raschiato il fondo del barile in Italia, per esempio, e nella maggior parte dei paesi sviluppati. Rimangono grandi risorse, che sono in Sud America, in Africa, sperando che non facciano troppe devastazioni per sfruttare l'idroelettrico. Le biomasse, in prospettiva, verranno abbandonate perché sono una grossa fonte di energia dei paesi estremamente in via di sviluppo e verranno abbandonate non appena ci sarà qualcosa di altrettanto economico e disponibile a disposizione di queste popolazioni. Invece l'eolico e il fotovoltaico stanno veramente crescendo rapidamente e soprattutto sull'eolico è entrata in massa la Cina, anche come mercato, oltre che come produttrice. Più come mercato, più come produttore. Direi uguale. In questo momento, però, forse più come mercato che come produttore, perché le prime aziende mondiali nel settore eolico sono sempre una danese, non faccio nomi, una americana, una tedesca. Poi vengono un sacco di ditte cinesi, però adesso la Cina finalmente è anche un grosso mercato, ha superato gli Stati Uniti come mercato dell'eolico. Invece sul fotovoltaico la Cina è solo un produttore, ma non installa pannelli fotovoltaici perché non sono ancora sufficientemente a buon mercato, mentre lo sono per noi che siamo più ricchi e ci possiamo permettere anche grazie agli incentivi che abbiamo. Senta, io so che noi in regia abbiamo a supporto delle tabelle, io manderei la prima, di cui lei mi parlava prima della trasmissione. Ecco qua. Che cosa dimostrano queste tabelle? Quindi c'è una traditional biomass che copre circa il 9,3%, vedete i combustibili fossili a livello mondiale sono comunque il 78%, l'energia nucleare il 2,8% e il restante 19% sono fonti rinnovabili, divise quasi in due parti, quelle tradizionali e quelle moderne. quelle, vedete, moderne sono per esempio il vento, l'eolico, i biocombustibili, se vogliamo mettiamoci anche l'idroelettrico, quello più recente e il geotermico, mentre l'altra metà sono le fonti rinnovabili tradizionali di cui parlavo prima, come la biomassa. Senta, lei parlava soprattutto, adesso concentriamoci un attimo sull'eolico e il fotovoltaico, parlava delle due fonti che si sono sviluppate di più, questa è la seconda tabella, ecco questa è la tabella... Qui si vede bene il ritmo di crescita nell'ultimo anno e la media di crescita degli ultimi 5 anni delle varie fonti nuove e vediamo il primo è il solare termodinamico, il solare termodinamico da noi è quasi non rappresentato, c'è un'unica centrale perché richiede condizioni meteoclimatiche molto particolari, sole molto intenso ma soprattutto una grossa componente di radiazione diretta, quindi cieli azzurri, altopiani, oppure aree desertiche dove non ci sia componente diffusa, cioè luminosa dal cielo come in Valpadana, ma direttamente dal sole, quindi i paesi che vanno per la maggiore sono la Spagna, il Nord Africa, gli Stati Uniti della zona Arizona, New Mexico e compagnia. L'Italia ha qualche località, l'unica centrale di questo genere è vicino a Siracusa e guarda caso si chiama Archimede perché giustamente è un omaggio a chi in qualche modo il solare termodinamico a concentrazione l'ha inventata e l'ha anche usata anche per scopi bellici. E questo nell'ultimo anno è quello che ha avuto la crescita più grande, seguito dal fotovoltaico che ha avuto un 42% di crescita nell'ultimo anno, è una media del 60% su un periodo di crescita annua, su 5 anni, l'eolico ha avuto il 19% nell'ultimo anno e il 25% di media negli ultimi 5 anni, cioè sono dei tassi di crescita spaventosi. Altissimi, altissimi. Ma anche in qualche modo l'idroelettrico grazie soprattutto alla Cina perché da noi non c'è più tanto margine, anche sul geotermico e quello tipo l'orderello. Senta, c'era forse anche una terza slide che può mandare forse in onda, ecco così vediamo tutto il panorama, questo riguarda? Questo riguarda il mondo, il totale mondiale è di 480 teravattora di produzione, in gran parte legato all'eolico che è in azzurro, fotovoltaico in giallo e via via le altre, vediamo che l'Europa ha un grosso peso nel share mondiale, 210 su 480 teravattora, i paesi… Una gravissima crescita. Sì, perché in termini di popolazione siamo circa un decimo della popolazione mondiale, qui invece siamo alla metà della produzione totale, proprio perché l'Europa è da sempre molto impegnata. E l'Italia com'è posizionata? L'Italia è molto ben posizionata, la vediamo sotto, siamo tra le grandi potenze del rinnovabile, al quinto posto dopo Cina, Stati Uniti, Germania e Spagna, però pensando che i primi due sono dei colossi in termini di popolazione, non sono raffrontabili, certo. La Germania è comunque molto più grande di noi, soltanto la Spagna in qualche modo ci supera e direi che abbiamo avuto una bella prestazione, soprattutto sul fotovoltaico nel 2011 siamo stati i primi al mondo per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Accidenti, e all'interno e in Italia, nel nostro paese, che differenze ci sono? Ci sono delle regioni più virtuose. Se andiamo a vedere la regione che in assoluto installa più nuove rinnovabili, cioè eolico, fotovoltaico, è la Puglia in testa. Ma se andiamo a vedere le installazioni, pro capite sono le Marche che sono in testa. Ah, perché è chiaro, cambia il livello. Perché insomma sono pochi marchigiani, quindi si alza il livello di... In termini assoluti, dopo la Puglia c'è la Lombardia, se non ricordo male, il Piemonte è abbastanza ben messo, altre regioni grosse e favorite, soprattutto dal sole come la Sicilia, sono invece molto più indietro. Ecco, sono quelle che stanno... ma è un problema culturale? Un problema di... Ma sì, non lo so esattamente. Sono un pochino, credo, legate sia a delle aspetti culturali, ma anche politici. Indubbiamente il governo regionale... La situazione è meno fluida. ...pugliese ha dato molte agevolazioni per costruire impianti basati sulla rinnovabili senza per esempio fare la valutazione di impatto ambientale, cioè saltando una serie di passaggi burocrati. Allora su questo ho capito benissimo. Ci torniamo fra un minuto e mezzo da pubblicità? È molto importante. Ecograffi è una nuova redazione multimediale che crea e realizza programmi televisivi e videointerviste. Ecograffi valorizza la tua attività in campo medico, ambientale e sociale, curando l'approfondimento giornalistico e l'attualità delle informazioni. Siamo a Torino, visita il nostro sito www.ecograffi.it o contattaci alla mail ecograffi-gmail.com Ecograffi, la tua redazione online. Bentornati in studio, siamo in compagnia del professore Fracastoro, stavamo parlando delle rinnovabili. Professore, io in apertura di questo blocco vorrei, effettivamente aveva ragione Giorgio che è qui in studio con noi, affrontare subito, anzi dirlo quasi, come cappello introduttivo, che alla base di qualunque sviluppo di fonte rinnovabile o meno, esiste la fonte del risparmio. Esatto, una fonte virtuale ma molto concreta in realtà. Molto concreta. Cioè è meglio un kilowattora in meno che qualunque altro tipo di kilowattora. Ma la cultura però è cambiata e la cultura del risparmio si sta diffondendo. In che percentuale incide? Beh, in questo momento i nostri consumi energetici, per esempio in Italia, sono ritornati al livello di 10-15 anni fa. Ah, quindi è un risultato. Ma purtroppo penso più per necessità che per virtù, perché le industrie sono ferme. No, è cambiata un po' la cultura. È cambiata la mentalità, indubbiamente. Pensiamo a tutte le iniziative, per esempio, dei sussidi a chi cambia i vetri o isola le finestre e così via. La possibilità di scarichi fiscali. Ci sono dei bellissimi incentivi che permettono di rendere competitive queste tecnologie che non lo sarebbero tanto, convenienti insomma. E quindi questo, indubbiamente, ci sta. Senta, ecco, in chiusura, prima della pubblicità parlavamo, ci siamo concentrati sulle fonti eolico e fotovoltaico. Fino a, mi corregga, 5-10 anni fa forse, quando si parlava di queste fonti c'erano molti pregiudizi. Cioè si diceva, non saranno una reale alternativa, non riusciranno mai a diventare una reale alternativa. E forse non è così, sono diventati, ma lì si parlava di due problemi soprattutto. Uno, il problema dei costi, che non avrebbe aiutato lo sviluppo. E l'altro, la forte perplessità, era sull'uso indiscriminato che si può fare dei territori per soprattutto il fotovoltaico. Erano vere entrambe le cose. E entrambe le cose si sono corrette in parte da sé, in parte per interventi legislativi. Quindi il problema dei costi era duplice, costavano molto e richiedevano degli incentivi che poi noi ci ritrovavamo sulla bolletta, perché gli incentivi non li ha messi lo Stato, li abbiamo messi noi consumatori sulla bolletta elettrica, abbiamo una voce, sussidi alle rinnovabili. E il problema dei costi si è risolto perché adesso gli incentivi praticamente non ci sono più, ma i costi si sono ridotti di un terzo. Perché? Perché sono arrivati la marea dei pannelli fotovoltaici made in China, che inizialmente avevano delle prestazioni scadentissime e adesso invece, anche grazie alle tecnologie europee e americane esportate chiave in mano negli stabilimenti cinesi, adesso sono prodotti affidabili come gli altri. Dispiace un pochino per tutte le aziende europee che sono state messe fuori mercato, come sapete c'è stato anche un processo per dumping, concorrenza sleale, fatto dagli Stati Uniti ai cinesi, che ha portato a, in qualche modo, contingentare le importazioni. Però il risultato per l'utente finale è che adesso veramente i prezzi sono scesi di 10 volte nel giro di 10 anni. Cosa che è caduta anche in altri mercati. È cresciuta. Anche sull'eolico, anche se senza queste grosse differenze, i prezzi sono stabili o in lieve diminuzione. Quindi l'aspetto economico, riduzione degli incentivi, riduzione del costo, è stato molto utile l'incentivo perché ha permesso di, in qualche modo, ridurre i prezzi. L'altro aspetto, quello dell'impatto ambientale, cioè l'occupazione di suolo, è connaturato in qualche modo alle fonti rinnovabili. Perché? Perché le fonti rinnovabili hanno una bassa densità di energia. Quindi per catturarne in grande quantità ci vogliono ettari di pannelli fotovoltaici e grandissime turbine eoliche. Pensate che l'area spazzata da una turbine eolica è uguale a quella di due campi da calcio. Certo. Sono delle cose enormi. È ovvio che la gente, qualche d'uno, li ha trovati brutti. Trovarseli sulla cresta delle montagne dell'Appennino non è piacente. Forse anche perché c'è stata un po' una corsa indiscriminata all'uso di... C'è stata una speculazione. Venivano i fondi di investimento stranieri a investire sul fotovoltaico italiano perché ti garantiva dei ritorni di interessi dell'ordine del 15% all'anno. E quando mai lo trovi? Una roba del genere. Poi sono stati proibiti. In Piemonte da due o tre anni i pannelli fotovoltaici non si possono più mettere sui campi. Abbiamo tanti tetti, usiamo i tetti. Certo. Quindi è molto semplice. Quello che è rimasto del rispetto critico delle rinnovabili non serviranno mai, eccetera, continua un po' a sussistere. Non è più vero, nel senso che le rinnovabili adesso coprono in Italia quasi il 30% di tutta la domanda elettrica, ma non possiamo negare che non è la stessa cosa dell'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico. Perché se non tira vento e non c'è sole, non si produce energia. Lei mi parlava della necessità di costruire impianti di riserva. E certo. Perché in questo momento, ovviamente, con tutto il fotovoltaico che si è installato, se c'è sole, come oggi, per esempio, su tutta Italia, un terzo circa della domanda di energia elettrica può essere soddisfatta solo dal fotovoltaico, nelle ore centrali della giornata. Ma se piove ci vuole qualcuno che produca la stessa quantità di energia con qualche altro modo. Costano tantissimo questi impianti di riserva. Diciamo, non sono impianti costosi, però avere un impianto che invece di funzionare a tavoletta per 365 giorni all'anno, viene fatto funzionare solo quando non c'è il sole, evidentemente rende l'ammortamento dell'investimento molto più lungo. E questi sono costi che in qualche modo vanno addebitati allo sviluppo delle rinnovabili. Sento, tra i limiti, lei mi raccontava, mi spiegava anche che forse indubbiamente uno dei limiti è anche la rete di infrastrutture che devono trasportare queste... Visto che parleremo anche di smart grids, una rete, prima ancora di essere furba, deve essere solida, deve essere in grado di, in qualche modo, trasferire le grandi quantità di energia che in modo abbastanza rapido vengono riversate sulla rete dagli impianti a volte periferici. Lei sta naturalmente introducendo l'argomento delle smart grids. Per carità, non vogliamo anticipare nulla. No, facciamolo ora, no, perché anzi non vorrei chiudere la trasmissione senza parlare di questo, che appunto si ricollega a questa necessità qui. Certo, quindi le reti devono essere affidabili, se l'infrastruttura non è adeguata, prima di tutto bisogna renderla più affidabile, più solida. Cioè non basta produrre tanto? No, bisogna anche trasportare in modo efficiente, altrimenti si rischia come qualche anno fa di buttare via il 25-30% dell'energia eolica prodotta perché la rete non è in grado di trasferirla, di trasportare. Chi è che si occupa, adesso mi chiedo, tra la tecnologia, il mondo tecnologico e la politica, chi è che si occupa di stabilire questi passaggi? Anche quando la politica per esempio spinge per degli incentivi o cerca di incrementare la produzione di energie rinnovabili, però si preoccupa poi dell'aspetto successivo, c'è la distribuzione perché appunto lo spreco... C'è un'azienda che si chiama Terna che si occupa di garantire l'offerta necessaria per la domanda e in ogni istante, io sto in pena per loro perché è un lavoro difficilissimo, ogni istante se noi schiacciamo un interruttore la luce si deve accendere. Cioè deve essere sempre coperta? Deve essere sempre coperta. Però ecco non è così scontato, nel senso noi ci abituiamo a questo, noi ci abituiamo all'idea che un interruttore ci dia la luce, però in realtà bisogna lavorare per garantire questo equilibrio tra domanda e offerta. Tra domanda e offerta. E questa è una cosa relativamente semplice, nel momento in cui è abbastanza programmabile la domanda e l'offerta è in qualche modo gestibile, perché se io ho delle centrali termoelettriche, meglio ancora idroelettriche, posso decidere quando farle funzionare e quando no. Ma quando alcune di queste centrali sono dei pannelli fotovoltaici, non posso proprio dare ordini. Se c'è il sole, producono, se non c'è, non producono. Nei siamo legati all'inizio della natura. Esattamente. Posso magari prevedere se domani ci sarà il sole oppure no e quindi preallertare una serie di altri impianti. Senta, una delle funzioni delle smart grids, che io poi non le ho lasciato dire tecnicamente. Cosa sono? Eh, perché lo sa, anzi glielo lascio, anzi ce lo dico ora, che cosa sono esattamente. Vabbè, quando si parla di smart pensiamo a... A qualcosa di intelligenza. Esatto, alle telecomunicazioni, alle ICT, le Information Communication Technologies. Sono loro che hanno inventato queste smart, che troviamo dappertutto, smart city, smart grid. Ma è vero, è vero, l'informatica ha reso tutto diverso. Pensiamo solo alla sostituzione dei documenti cartacei. Tutto questo può avere anche dei benefici, speriamo che ce l'abbia. E nel campo dell'organizzazione di una città e di una rete di energia che serve una città, ha la possibilità di monitorare, controllare in modo veloce, in tempo reale, con l'informatica, la domanda e l'offerta, cioè di rendere in buona sostanza la rete intelligente. No, io non posso fare un esempio a lei, no, però le cito un caso. Io qualche tempo fa, con l'assessore Rubati, ci siamo occupati del blocco della metropolitana Torino, sono state 14 ore di buco, in cui la metropolitana di Torino è controllata in remoto da un centro francese. In quell'occasione è stato formato un pool di esperti del Politecnico di Torino per aiutare localmente il gruppo francese a capire cosa fosse accaduto. Il Politecnico, precisissimo, in audizione ha spiegato che, adesso glielo dico in estrema sintesi e glielo dico maldestramente, ma in realtà era avvenuto un sovraccarico di informazione. Cioè, la rete che deve essere, che è coperta da due, il sistema che è garantito da due reti proprio per dare la massima garanzia in assoluto, ha queste due strade parallele di dati che corrono vicini, in realtà si sono accavallati. E se succede questo? E questo è il risultato di una cattiva programmazione, se vogliamo. Lo dirò lo batti. Per forza, le informazioni devono essere ridondanti perché se qualcosa si blocca da una parte è come il doppio circuito frenante, meglio che ci sia qualcun altro che entra in gioco. Se però interferiscono i due circuiti e creano degli intasamenti, come mi sembra sia successo, io non so i dettagli perché non mi occupo tanto di informatica, beh, allora vuol dire che non è stato previsto bene che questo potesse avvenire. L'eccesso di informazioni è un fenomeno endemico in questo momento, direi, della società occidentale, diciamo così. Abbiamo troppi dati, milioni, miliardi di dati, non sappiamo bene cosa fare. Dobbiamo evitare, smart vuol dire anche scegliere i dati giusti, e sceglierli e farli, usarli bene per creare quel collegamento fra domanda e offerta che rimane fondamentale. Senta, ma tornando agli smart grids, questo sistema super intelligente di, per esempio, controllo di domanda e offerta dell'energia, è già così, un sistema già così presente o riguarda soprattutto il futuro ancora? In parte lo è. Per esempio, il fatto di utilizzare dei sistemi di accumulo, bacini di accumulo in alta quota, caricarli di notte, quando l'energia elettrica costa poco, e riutilizzarli di giorno, è un modo intelligente di gestire una rete energetica. Quindi parliamo adesso dell'aspetto energia e di come le ICT possono aiutare le reti energetiche a essere più intelligenti. Uno dei modi per fare tornare meglio domanda e offerta è quello di accumularla nei momenti in cui c'è sovrapproduzione rispetto alla domanda. Quindi l'uso dei bacini di accumulo o, perché no, degli accumuli termici che usa la rete di teleriscaldamento torinese è ovviamente anche quello uno degli strumenti delle smart grid che permettono di rendere sempre più compatibili domanda e offerta. Ma io direi che il compito principale delle reti energetiche smart è quello di utilizzare tutte le fonti rinnovabili senza sprecare energia e soddisfacendo sempre la domanda. E questo è un compito veramente difficile che solo le ICT ci possono aiutare a portare a termine. Grazie professore. Lei ha dato la chiusura migliore alla trasmissione. Perché io da due minuti mi fanno segno che abbiamo sforato pesantemente. Però la ringrazio perché in realtà ha sintetizzato quello che non avrei saputo fare. Senti, il tempo era poco a disposizione. L'argomento è molto, molto vasto. Noi ogni tanto ci troviamo ad affrontarlo. Torna presto a parlarne, me lo promette. Magari con un esperto di ICT a cui ho fatto un assist favoloso. Magari un esperto e ne facciamo due puntate di seguito. La ringrazio moltissimo per essere sempre così disponibile e in bocca al lupo per il suo lavoro. Ovviamente a tutti voi che ci avete seguito io do il mio ringraziamento, il mio buonasera e come di consueto passo la parola a Giorgio Deferia. Buonasera.